4, 5, 8, 9 E il suo marito dov'è? È via, per lavoro Il non ha mai avuto la sua vita Il non era un'è niente Il non è stato l'ascente Che ho sentito di anni fa E so che si può dire che All'interno è difficile sapevo sapere Carbompo viedru. come mai io so già quello che lei mi dirà e lei sa già quello che le dirò io perché non riusciamo mai a tirar fuori cosa qualcosa del cuore non riusciamo mai non riusciamo mai